Wow 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 amici poco fanacci benvenuti al primo turno della top cut della premia challenge di Genova Esatto, con la vittoria dell'ultimo turno contro Shadow siamo andati sul putteggio di 4 a 1 E ho avuto accesso alla fase finale della top 8 In questo primo confronto della top cut affrontiamo una persona che abbiamo già visto nel corso della Svizzera Ovvero Cagnai che ci porta un team formato da Garchomp, Battlefree, Kartana, Tapu Lele, Weavile e Pelipper Pelipper Scarfato, Kartana con la mossa Z-Lotta, Battlefree con Sesh, abbiamo visto che Tapu Lele aveva Citrus Berry Di più su Garchomp, non sorirvi Io invece per questa prima partita decido di portare Nintels e Celestina in lead perché Celestina si mangia tutto il suo team E il suo team soffre particolarmente Nintels e nelle retrovie decido di portare i miei due tapu ovvero Tapu Lele e Tapu Coco Andiamo a gustarci questa prima sfida, enjoy! Parte la prima sfida con Cagnai Che lì da con Garchomp e Battlefree Mentre io dal canto mio rispondo con il duo formato da Nintels e Celestina Quindi matchup decisamente favorevole per me In quanto entrambi i suoi due Pokémon soffrono fortemente la Bora del mio Nintels Che sotto grandi ne vi ricordo che non può missare E dunque senza pensarci su troppo Io sparo subito una Bora Che colpisce ovviamente entrambi i bersagli Garchomp non riesce a resistere Ma e Battlefree viene congelato Quindi non sarà in grado di sparare vento in coda o sonnifero Infatti rimane fermo come un ghiacciolo E viene punito dalla mia Celestina che con un peso bomba lo manda a KO E si prende anche un bel Beast Boost in Special Defense Dunque primo turno importantissimo per me Che mi sono preso fin da subito due kill E sono a PS pieni Essendo riuscito anche a mantenere il Focus Health di Nintels Quindi posso incassare un colpo e sferrare un'altra Bora Se il mio avversario ha due Pokémon più lenti Scendono in campo gli ultimi due Pokémon di Cagnai Che sono Kartana e Tapulele Tapulele e Kartana sappiamo non essere scarfati Quindi sono abbastanza tranquillo Infatti Tapulele dell'avversario protegge Per proteggersi da una peso bomba immagino Sparo un'altra Bora in tutta tranquillità Colpisco Kartana che non è a Soul Twist Quindi morirà o rimarrà con pochi PS In questo caso muore brutalmente E Celestila fa un peso bomba sulla protezione Quindi andiamo sul 3 Anzi 4 contro 1 E qui il mio avversario Penso che sia scostretto al ritiro Andiamo un po' a scoprire se si ritira o meno Infatti non può niente di fronte a Celestila Boostato E infatti Quitta Primo incontro Lampo Che veramente si è svolto in un battibaleno Nel giro di due turni Credo Ho avuto fortuna fin da subito Con quel Freeze su Butterfly Che però diciamocelo Non si è rivelato fondamentale per l'esito finale della partita In quanto Non avrebbe potuto fronteggiare con il resto del team Che aveva dietro Celestila Boostata E dunque Speriamo che il proseguimento del match Ci riservi in maggiore sorprese E andiamo a vederci il secondo preview Come possiamo notare dal team preview Gli schieramenti sono gli stessi per entrambi Cambiano solo il lead Infatti io leado con Nintels e Tapulele Portando Celestila nelle retrovie A effettuare magari uno switch in gratuito Mentre Kanyai leada con Butterfly e Kartana Dunque andiamo a gustarci questa seconda partita E vediamo se sarà decisiva o meno Per questa seconda sfida ci daremo battaglia Nella spiaggia Kanyai leada con Butterfly e Kartana Mentre io contro l'into con Nintels e Tapulele Quindi si attivano Scendineve E successivamente il campo psichico di Tapulele Io qui posso sparare nuovamente Bora Perché Butterfly abbiamo visto che la regge male Kartana comunque può morire Ma decido di ritirare Tapulele in favore di Tapu Koko Per attivare il campo elettrico E bloccare eventuali sonniferi da parte di Butterfly Quindi tarpo subito le ali Protezione da parte di Kartana Gli attacco con una Bora Che andrà a centrare il Butterfly In quanto Kartana sia appena protetto Non lo mando giù Non lo congelero stavolta Butterfly invece risponde con un vento in coda Che velocizza il suo team per i prossimi tre turni a venire Dunque qui Butterfly non se la passa tanto bene Perché abbia settato sì il vento in coda Ma non può addormentare più il campo elettrico Viene ritirato giustamente da Cagnai Che fa scendere in campo Garchomp Io però ritiro Nintels Per paura di un double target di Kartana più Butterfly Che vi avrebbero mandato giù Dopo la rottura al focus hash Infatti Kartana colpisce con sotto il corno Lo slot del subentrato Celestila E un fulmine potentissimo Va a mettere K.O. Kartana Dunque vi prendo già una kill al turno 2 Garchomp si piglia il danno alla grandina Come anche Tapu Koko e Celestila E vediamo chi fa scendere in campo a questo punto Il buon Kagnai Vediamo vediamo Uh Butterfly Entra Butterfly che può si attaccare Ma grazie al campo elettrico Non può fare sonnifero Io faccio scendere in campo a questo punto Tapu Lele Mandandolo nuovamente al macello Povero Tapu Lele Gli sto facendo fare solo quello ormai Però non mi stanco di ripeterlo Mi serve più Tapu Koko in questa fase del match Arriva infatti un potentissimo terremoto Da parte di Garchomp Che fa un danno della madonna Tapu Lele E Kagnai fa un'ottima mossa qui Sonnifero sullo slot di Celestila Incurante il campo elettrico Precedentemente attivo E infatti Celestila è tipo volante Quindi è immune agli effetti del campo E può prendersi il sonnifero in faccia La grandina continua a fare cheap damage Su tutti i Pokémon Sul terreno di gioco Io qui con Tapu Lele sono messo male In quanto muoio da tutto Da tutto Da tutte le offensive di Garchomp Kagnai invece ritira Butterfree E fa scendere in campo Il suo di Tapu Lele Io decido di proteggere Per installare un po' di turni Di vento in cona Infatti Mi salvo da questa Velenpuntura di Garchomp Celestila si sveglia Il secondo turno di sonno Spara un peso bomba Potentissimo Sullo slot Dell'appena subentrato Tapu Lele E lo fa esplodere Mille pezzi Prendendosi un base boost In special defense Dunque qui Mi ritrovo nuovamente 4 contro 2 Con Butterfree Mezzo morto E la grandina Continua a fare Che più damage Che sono molto importanti Per il mio team Avanzi Un po' di recovery Nel mentre Finisce anche Il vento in coda Per il mio avversario Fa scendere in campo Butterfree E con Garchomp Fa velenpuntura Giustamente Per togliersi di mezzo Tapu Lele Per impedirmi Di impedirmi Di settare il Tailwind Cosa che Butterfree Fa incurante di ciò Però Celestila non sta lì A pettinare le bambole Infatti fa un parassi seme Sullo slot di Garchomp Che mi dà Ancora più recovery Rispetto a quella Degli avanzi E piano piano Lo manderò giù Colparassi seme E lo porterò in range Di un eventuale Peso bomba A questo punto Rimaniamo in 3 contro 2 A mio favore Faccio scendere al campo Il mio terzo pokemon Ovvero Ninetales Che risetta nuovamente La Ale Che danneggia Sia Butterfree Che Penso che Ho condotto un deal Muore Che Garchomp Che protegge Per paura della Bora Io però Questo turno Proteggo Perché devo Stallare un po' di Tailwind Evito il sonnifero Di Butterfree Che però Si prende Un bel peso bomba Nella face E finisce KO Dandomi un altro Beast Boost In Special Defense E quindi Ci ritroviamo In una situazione Di 3 contro 1 Con Garchomp Che non può nulla Di fronte a Ninthes Che ha mantenuto Il Sesh E dunque Appena sparerò Una Bora Quel Garchomp Dovrebbe esplodere In 4000 pezzi Inoltre alla recovery Di Parassi Seme Più La Grandine Lo portano In range Di veramente Qualsiasi cosa Frana Da parte di Garchomp Che approfitta Del vento in coda Colpisce Ninthel Se non mi flincio Ho vinto la partita Per fortuna mia Non flincio Con quel 30% Evito l'attacco Con Celestila E Bora Chiudo i conti In questa seconda sfida Consegnandomi la vittoria Per 3-0 Un'altra vittoria facile Firmata dal duo Ninthes e Celestila Che avevano un matchup Favorevolissimo Contro il team Dell'avversario Che soffriva particolarmente Queste due minacce Questa vittoria Mi proietta Nella semifinale Del torneo Nella quale affronterò Un giocatore Che abbiamo già visto Precedentemente Nei round di Swiss E quindi avremo Un bel rematch Ringrazio Cagnai Per la sfida E come il consuetudine Se il video è piaciuto Vi invito a lasciare Un bel commentino Come sempre in descrizione E ci vediamo domani Con la semifinale del torneo Ciao